Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su AlterX. Oggi vedremo come utilizzare dei file JSON scaricandoli direttamente dalla rete. Ci sono alcuni siti web che mettono a disposizione i file JSON tramite l'API Key, i chiavi API. E con AlterX possiamo sfruttare il Download Tool che si trova nella sezione Connectors per scaricare il file JSON e utilizzare i dati in esso contenuto. Uno di questi siti è il sito quandl.com che è un sito tutto completamente in inglese che contiene tantissimi dataset e mette a disposizione la propria chiave API per permettere il download dei dati. Clicchiamo qua su Brows Data Scegliamo Economic Data Europe Banking Finance Banca Europea E prendiamo questo qua il primo. In realtà noi quello che c'è dentro al file non ci interessa. Ci interessa vedere come effettuare le operazioni per recuperare i dati che vogliamo. Clicchiamo qua su JSON e ci si aprirà una finestrella con un link. Lo copiamo E andiamo su AlterX Per utilizzare il Download Tool come potete vedere qua chiede un campo in cui andare a cercare il link. Visto che l'abbiamo copiato direttamente dal web possiamo utilizzare un text tool Chiamiamo la colonna URL Incolliamo il nostro link. Incolliamo il nostro link. Che però è in formato lineare. Andiamo qui E abbiamo JSON Parse Selezioniamo il campo Download Data Ed ecco che Il JSON Parse Tool ci ha creato le due colonne JSON Name e JSON Value String Ora visto che il file JSON è già completamente a posto così com'è Possiamo anche mettere un output data Salvarlo Come AlterX Database Così potremmo lavorare offline senza bombardare il sito Quandl di nostre richieste di download Molto bene Apriamo Una nuova finestra E andiamo ad aprire il file che abbiamo scaricato Allora prima di tutto Eliminiamo Selezioniamo le colonne che non ci servono Teniamo solo JSON Name e JSON Value String Ora Questi primi dati qua non ci interessano Riguardano la descrizione del dataset Ci interessa Dataset Column Name 0 e 1 Dice quali sono le due colonne della nostra tabella Frequenza, tipo, non ci interessa nulla Ci sono i range di dati contenuti nel database E poi ci interessa qui Dataset data 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 Quindi facciamo una cosa Prendiamo Un filter tool E gli chiediamo Di restituirci solo i campi in cui il JSON Name è uguale Contiene la parola Column Names Poi copiamo pari pari Aggiungiamo OR E gli chiediamo Di filtrarci anche Le righe Le righe in cui C'è la scritta Data set Punto data Aggiungiamo un punto Così eliminiamo anche quelle due prime righe Ok Questa è la struttura della nostra tabella Abbiamo Una colonna 0 e una colonna 1 Data e milioni di euro E poi I valori Abbiamo 0 0 0 1 1 0 1 1 Il secondo numero Riguarda La colonna in cui devono essere inseriti Il primo numero riguarda la riga Quindi questa sarà La riga 0 Colonna Colonna della data Colonna dei milioni di euro La seconda riga Colonna della data Colonna dei milioni di euro E così via Per come è conformato questo File json Non possiamo utilizzare la procedura Utilizzata nel tutorial precedente Dobbiamo Lavorare In due flussi separati Le colonne E invece Le intestazioni delle colonne E invece i dati che Sono inseriti all'interno delle colonne Quindi Copiamo questo filter tool E gli chiediamo soltanto le colonne Le righe che contengono La scritta Column names Così abbiamo splittato in due Il nostro flusso di dati Dal connettore vero Andremo a lavorare le colonne Dal connettore falso Invece andremo a lavorare i dati Iniziamo proprio con i dati Allora abbiamo detto che Il primo numero riguarda l'id di riga Il secondo numero invece È la nostra colonna Quindi prendiamo Un text to column Abbiamo bisogno di Una, due, tre, quattro colonne Che vengano splittate Tutte le volte che incontra un punto Eccoci qua Riga e colonna Prendiamo il nostro solito cross tab Allora Come header Vogliamo il json name 4 Data field è il value string E gli diciamo di raggruppare I dati in base al json name 3 Che sarebbe invece il nostro id di riga Colonna 0 Colonna 1 Id di ogni riga Ora passiamo invece All'intestazione delle colonne Qui è molto semplice Basta usare direttamente un cross tab Il json name e l'ader Il json value string Sono i nostri dati Non abbiamo bisogno di nessun raggruppamento Perché sono solo due righe Ed ecco che abbiamo due tabelle Che hanno praticamente la stessa struttura Ora dobbiamo riuscire a incolonnare Queste due colonne 0 e 1 Sotto 0 Sotto column name 0 E column names 1 La cosa più facile È sbarazzarci Di tutta questa scritta Prima dello 0 Di modo che avremo Due colonne Che hanno la stessa intestazione Potremmo usare Un union tool E eseguire un'unione Delle due tabelle In base al nome Della colonna Quindi Prendiamo Un dynamic rename Selezioniamo le due colonne Che vogliamo rinominare Andiamo sulle funzioni Stringa Regex replace Sempre lui Il campo è il current field Andiamo a costruire La nostra espressione regolare Abbiamo Una parola Un underscore Una parola Un underscore Una parola Un underscore Lettere Un underscore Fanno tutti parte Del gruppo Word letter Quindi abbiamo Una lettera Con il più di fianco Per dire che può essere Deve essere anche più di una E poi Abbiamo un numero Quello che noi ci interessa È proprio Il numero Quindi mettendolo tra parentesi Creiamo Un gruppo E vogliamo rimpiazzare L'intera stringa Con l'unico gruppo Che abbiamo selezionato Ed ecco che adesso abbiamo 0 e 1 E 0 e 1 Possiamo utilizzare L'union L'union Dicendogli Autoconfig By name Ovviamente ci verrà restituito Un warning Perché Questa tabella contiene Colonna json name Questa volta Anziché formula Scegliamo Take field names From first Rov of data Ed ecco Che abbiamo ricostruito La nostra tabella Il tutorial È finito Ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao